E' stata una riunione fiume quella tra il comparto privati accreditati e i commissari Cotticelle e Shell per la definizione dei tetti di spessa del settore, un incontro con qualche frizione, proteste evidenti e anche una ritirata strategica della struttura commissariale a metà della trattativa. Il risultato di tutto questo dovrebbe essere già scritto nero su bianco oggi con un DCA preposto, visto che a fine febbraio scadrà la proroga sul budget 2018. Ci è voluto un po' ma alla fine i commissari hanno concesso un aumento di budget di 6 milioni e mezzo di euro rispetto alla cifra licenziata da scura lo scorso anno per i privati accreditati. Per la specialistica ambulatoriale ci sono dunque 64,5 milioni di euro disponibili da dividere però come lo scorso anno. Una parte delle risorse sono destinate agli APA e PAC erogato dalle casse di cura, un milione e mezzo servirà per la radioterapia dei Marelli Hospital, altri due milioni per il potenziamento di tacche e risonanze. Inizialmente ieri sera la proposta dei commissari era di incrementare soltanto di 3 milioni e mezzo di euro il budget previsto per i privati accreditati, poi a riunione interrotta e breve camera di consiglio dei commissari è stata proposta la cifra di 6 milioni e mezzo di fatto già nota prima ancora di questo incontro. Cifre e dati per Federlab e Anisap sono totalmente insufficienti, stando alle dossiere presentate ai commissari di milioni ne servirebbero almeno 60 per portare la Calabria in pari con quanto definito da scura qualche anno fa. I calabresi dovrebbero avere diritto a 12 prestazioni per abitante, cosa che da queste parti non avviene. Sono al massimo 8 le prestazioni erogate per abitanti in media, una situazione che va avanti da oltre un anno e mezzo e che ancora una volta non trova soluzione. I rappresentanti dei privati stavolta non parlano di serrata o di proteste clamorose, fanno i conti con la realtà delle cose, fino a quando ci saranno le risorse in budget, le prestazioni saranno erogate, poi si dovrà pagare. D'altra parte sul fronte budget, le risorse sono quelle che sono, tra assistenza ospedaliere e laboratori, non si può superare i 258,1 milioni di euro.